Salve a tutti, sono Gaetano Brancato, sono un appassionato di tiro, tiro con la carabina a medie e lunghe distanze. Sono stato incaricato dalla ditta Zabbatti, nella figura dell'ingegnera Emanuele, a fare questo video dove mostreremo come effettuare una buona pulizia in una canna rigata. La carabina che andremo a pulire è un calibro 308 della ditta Zabbatti con canna multiradiale. Per prima cosa abbiamo bisogno di diversi prodotti per fare una buona pulizia. Una bacchetta che in questo caso deve essere almeno 1,15-1,20 m visto che la canna è 66. Dopo abbiamo bisogno di un guida bacchetta che ci serve per bypassare il gruppo scatto e l'azione, cosicché quando andiamo a usare i solventi non sporchiamo niente. Direttamente le pezzuole e i felcini vanno direttamente in canna. Dopodiché abbiamo bisogno del carbon remover che serve per togliere il solvente, che serve per togliere i carboni residui nella canna. Poi abbiamo bisogno di un copper remover che serve per levare il rame, ho detto come sdramatore. Poi abbiamo bisogno della pasta yosso che serve per fare una bella lappatura nella canna, specialmente quando la canna è nuova. Lo spingi pezzuola, lo spingi feltrini, uno scovolino in nylon, dei feltrini, feltrino abrasivo e feltrino bianco, per mettere la pasta yosso per la lappatura, e dei feltrini poi per fare la pulizia della camera e della prima parte della canna. Allora, per prima cosa togliamo l'otturatore, posizioniamo l'attrezzino che ci serve per non fare sporcare il caricatore, montiamo lo spingi pezzuole, prendiamo una pezzuola, ed inumidiamola con il solvente carbon remover. Come si vede, la canna è sporchissima, perché prima di arrivare a voi, la carabina, già il fabbricatore ha sparato qualche colpo, dopodiché va al banco prova per provarla. E quindi già la carabina ha sparato. E poi si vede, con la prima parte di inizio, già non può sparare di partire della canna. come possiamo vedere, c'è sempre sporco. Questo passaggio va fatto quattro volte, sempre con le pezzuole impevute di carbon remover. come vissi perché migra minima fiat migra 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 passaggi già la pezzuola sempre più pulita dopodiché montiamo lo scovolino in nylon per le canne multiradiale consigliabile in nylon perché come sappiamo le canne multiradiali hanno gli spigoli interni battuti e quindi non c'è bisogno di usare altri scolini fare una ventina di passaggi avanti e indietro nella canna si facendo vogliamo eventuali residui di carbone che sono nelle rigature togliere lo scovolino rimontare lo spingipezzuole e fare altre due passaggi col carbon remover ora ci accorgeremo guardate lo sporco che è uscito sembrava pulita la canna invece è ancora sporchissima fare un altro passaggio grazie a tutti grazie a tutti A questo punto asciugiamo bene, fino a quando le persone che sono pulite. Il secondo solvente che andiamo a usare è come un evento detto sdramatore, o copper removerlo. Facciamo lo stesso procedimento che abbiamo fatto col carbon removerlo. Inzuppiamo una pezzuola di copper remover. E facciamo diversi passaggi. Almeno dobbiamo fare quattro passaggi. Dopodiché rimondiamo di nuovo lo scomolino. E rifacciamo un'altra ventina di passaggi avanti e indietro nella camera. Rimondiamo lo spingipezzuole e inumidiamo di nuovo la canna con il copper remover. Un po' sdramatore. Come vedete sembra sporca. Sembrava pulita prima, ma appena usiamo lo scovolino esce ancora sporco. facciamo il secondo passaggio. E' un po' sdramatore. E' un po' sdramatore. E' un po' sdramatore. E' un po' sdramatore pulito e asciugato bene. Diciamo che già le prime due fasi per la pulizia della canna li abbiamo fatte. per sicurezza per sicurezza prendiamo una pezzuola bianca così si vede se eventualmente escono residui di rame nella canna che ha più attrito la canna è pulita a quanto riguarda il terzo passaggio quello che è molto più importante specialmente nella carattina quando esiamo a provaggio è la lappatura della canna che l'andremo a fare con la pomata la pante iosso allora prendiamo spingi feltrini mettiamo prima un veltrino bianco poi mettiamo un veltrino abrasivo così come sto facendo vedere io prendiamo la pomata iosso e la mettiamo nel primo feltrino il frettino abrasivo nella canna e facciamo dieci passaggi cercando di non far uscire il frettino dalla canna così come vi sto mostrando io avanti indietro dieci passaggi dopodiché togliamo i feltrini e rimettiamo altri due veltrini sempre nello stesso modo fettino bianco fettino abrasivo mettiamo di nuovo un po di pomata iosso nel primo feltrino quello abrasivo e facciamo lo stesso procedimento tanto attenti che i feltrino non escono dalla canna sembra una decina di passaggi la lappatura della canna è molto importante specialmente nelle canne multiradiali lo stesso costruttore chiede di fare questa operazione perché aumenta la precisione e diminuisce i flyer facendo questa lappatura della canna come vedete escono sempre neri i feltrini non è perché la canna è sporca ma perché è proprio la pasta di osso che fa questo da questa sensazione diciamo le scuole mettere poi il trino bianco il fettino abrasivo senza pomata iosso e dare un'altra lucidatina sempre una decina di passaggio ma non è indietro sì 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 diciamo che con questo procedimento dalla polizia della canna e della lappatura è fatta ora dobbiamo solamente pulire tutti i residui che ci abbiamo nella canna residui di carboni del disdramatore e della pomata iosso quindi prendiamo le pezzuole pulite un materiale un solvente buono per fare questo tipo di pulizia e il petrolio bianco questo pulizia si deve fare fino a quando le pezzuole non escono pulite quindi bisogna fare diversi passaggi se possono anche girare le pezzuole e riutilizzare le pezzuole e riutilizzarle due volte ora è ci sporca ora è ci sporca questa operazione è quella più complicata perché bisogna pulire la canna del tutto quindi abbiamo bisogno più passaggi ci siamo ora delle pezzuole a piangere così ci rendiamo conto a che punto è il punto di vista di inizia l'esercizio inizia da un po' solle un po' solle loco però giusti e Diciamo che la canna è quasi pulita. Passiamo all'ultima pezzuola bianca senza solvente e asciugiamo. Passiamo. Un'altra operazione molto importante quando la carabina è nuova è pulire la camera di la carabina della parte iniziale dove scorre l'azione per fare questo pezzo. Questo pezzuola e questo strumentino. Così andiamo a pulire la parte iniziale della canna di eventuali residui che sono stati trasportati nel momento della pulizia. Questa operazione si può fare anche con il solvente petrolio bianco. Come dire il fettino per un 300 euro per un cartino in canna. Così. Possono essere anche dei residui di truciolo dovuto alla lavorazione quando si fa l'azione, quando si buca la canna. come vedete è sporchissimo. Per invece pulire la camera di cartuccia abbiamo bisogno di uno scovolino nel calibro che è del fucile, in questo caso calibro 30. Prendiamo lo scovolino, metterlo su questo strumentino, mettere un po' di petrolio bianco e rimetterlo dentro. Così facendo noi andiamo a pulire la camera di cartuccia e la parte iniziale della canna da eventuali residui di pulizia. Usiamo per precauzione lo scovolino 45, così asciughiamo. Asciughiamo bene. La carabina a questo punto è pulita e è possibile già incominciare a sparare. Quello che consigliamo noi è sparare il primo colpo e ripetere tutta questa pulizia per i primi 10 colpi. Ogni colpo sparato questo procedimento. Dopodiché si può fare il procedimento ogni 5 colpi. Si sparano 5 colpi e si fa la pulizia. Si sparano altri 5 colpi e si fa la pulizia di nuovo. Se dovete continuare a sparare non dovete superare i 30 colpi. Dopo 30 colpi si rifà di nuovo la stessa pulizia. Per quanto riguarda invece la pomata alla panteiosso è consigliabile quando sparate ogni 3-400 colpi fare anche il passaggio ogni volta con questa pomata. Non c'è bisogno di farla ogni volta che sparate ma dopo 300-400 colpi. Un'altra cosa molto importante è la pulizia dell'otturatore con il percussore. Allora bisogna mettere questa spina così, aprire l'otturatore, sfilarlo. A questo punto basta girare in questo verso come faccio io e il percussore è tolto. Prendiamo una pezzuola anche con uno stecchino. Mettiamo un po' di olio per armi. Mettiamo un po' di olio per armi e puliamo la parte dove appoggia il fondello del bossolo. L'otturatore è sporco nero. Dopodiché prendiamo una pezzuola, lo imbeviamo sempre di un po' di olio, pulizia per armi e puliamo l'otturatore. Sembrava pulito invece era sporchissimo. Asciughiamo con un'altra pezzuola pulita l'olio. Prendiamo il percussore. Diamo una pulettina così. così. Rimondiamo. La spina va tolta solo dopo che inseriamo. inseriamo il percussore. Abbassiamo così. E tiriamo la spina. E il percussore è pulito. Abbiamo finito. Ringraziamo a tutti per la pazienza avuta. E arrivederci. Ciao. Ciao.